Prima di iniziare il video, io vi volevo ringraziare perché su TikTok siamo arrivati a 4.000! Continua a essere tutta blu Ha reso una gialla! Buongiorno amici, ciao amici! Oggi è martedì, ma io sul maglione del giovedì Ovviamente, come potete vedere, mi sono tagliato i capelli No, non è vero, mia madre è passata con la macchinetta e ha deciso di tagliare i capelli Detto questo, sigla e via con un nuovo episodio! Sì, ma per ora dovevo mettere i miei cuffiette! Ho trovato anche un Kinder Bueno! E' proprio buono! I'm on the deeper watches are diving! Little Night Wars! Buia! Hey hey hey! Klaus non vedo niente, li devi spostare Mettiti giù da bravo! Oh! No! No! Perché riparti da qui? No raga, non ci credo! Spero che almeno il salsiccio ci sia! No raga! No raga, non ci credo! Ora devo riandare su, riprendere tutti i pezzi di salsiccia Pensavo di farcelo! E invece Che vittacce! Che vittacce! Ma dai! Klaus, tu farei questa fine se non fai bravo! Scherzi! Ma poi stavo pensando Perché c'è quella specie di ascensore, le piccoline? Che non è che il cuoco si può mettere lì dentro e salire! Sto continuando, non faccio! Sì! Daì! Vapparala! Ora mi devo arrampicare, saltare sul gancio, saltare di là, far cadere il prosciutto E poi non so se sia proprio un prosciutto E aprala Mi schiaccia pure E sto prosciutto Dai Sì comunque secondo me con questo prosciutto Ci escono molto più di una Salsiccia solo Cioè il gigante è più grande di me Oh che fatica Io sarei già stanchissima Ma poi da quanto non mangio in questo gioco Tantissimo Cioè il mio canale che si rupano la mia borsa Ops Mi sono scelta Klaus Qui c'è della sua spazio Qui c'è un buco la casa Ma poi Oh no non era un buco Ma qui non arrivava mica il cuoco Sì di là Io devo correre A nascondermi nella scatola Perché adesso tiro giù quella E arriva il cuoco Oh perché non riesco più a prendere Ok Via Via Ecco Mi sono schiantata di nuovo Secondo voi mi trovo? Oddio Formato Ma ti ne vai? Il prosciutto Non è che non si ne va Si ne va ora Via, via, via Ciao! Ciao! Quando mi è ora? Andare la sedia, guarda! Dovevo scapparmene di là! Ma c'è un pulsante! Dai, il moti si chiude! Oh oh! Aiuto! Non so neanche dove devo andare! Allora, secondo me... Se io vado al piano e passo di qua... Lui non mi sente! E invece mi sente, porca di quella! La giallina! Mi ha preso! E invece no! Mi ha preso o no? No! Ma non mi ha preso! Ma io ora... No! Pensavo che se ne andasse da lì! Ma io qua dove devo andare? Non vedo un passaggio! Allora... Allora, in qualunque modo io faccia... Non mi sente! Ho capito questo! Forse devo aspettare che lui se ne va! Non mi ha preso e ne andrà! Non mi ha preso e ne andrà! Non mi ha preso e ne andrà! Che tu ne andrà mai, prima! Perchè io... Dov'è, secondo me non ci posso! E invece... Non ci posso, raga! guardate non si è accorto di nulla però ora io dovete mandare cioè non vedo tipo un passaggio e non capisco e di qua torno ancora forse credo questo pulsante forse io devo farlo venire di qua e poi chiuderlo dentro e poi tanto io posso scappare di qua non mi prendi dove vuoi andare no cazzo ma se sei grasso come non so cosa ma ti vedi madonna però che fiuto c'hai c'hai prosciutto davanti senti il mio odore allora raga studiamo dove dobbiamo andare se qualcuno di voi lo sa mi raccomando lasciate un commento se vi è piaciuto il video lasciate un like condividete seguitemi sui social che trovate in fondo al video o nell'info box io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti.